Salve, sono Annalisa Sacchi, sono una ricercatrice e docente di arti performative. All'Università UAP di Venezia dirigo un corso di laurea magistrale in teatro e arti performative che in questi anni ha lavorato a una serie di sperimentazioni didattiche e di ricerche che hanno convocato in vario modo l'idea di performance, presenza, archivio, comunità. Penso che sia all'incrocio di queste esperienze, da questo osservatorio all'incrocio di queste esperienze che sono chiamata a pronunciarmi. Dunque io penso che mai, come in questo momento, il potenziale di prossimità che esiste tra l'educazione, parlo di tutta l'educazione, a partire da quella primaria fino a comprendere quella universitaria e le arti, soprattutto le arti della presenza, che mai questo potenziale sia stato così incandescente. Il punto però è come può essere possibile, in questo tempo complesso, sospeso in una certa forma, fare mondo, fare relazioni tra questi campi. Come non solo attrezzarsi per affrontare questa fase e progettare quella futura, ma essere in grado di stare nel mezzo e nel mezzo alimentare il desiderio. La domanda è, ci sarà ancora desiderio di università, di teatro, di musica? Perché la partita del desiderio sarebbe irreparabile. Nel nostro caso specifico del desiderio di fare teatro, di vedere teatro, di studiare teatro. Perché allo stato attuale questo desiderio è sospeso tra la nostalgia, ci manca, e la proiezione, l'immaginarci di nuovo in aula, in teatro, in scena. Lo spazio del presente, a parte alcuni esperimenti pure importanti, è per lo più riempito da forme elementari di traduzione. La registrazione dello spettacolo che va online, ad esempio, per lo più gratuitamente. Ora, per continuare su questo crinale di saldatura fra scena e università, e da parte nostra in università, la didattica online abbiamo sperimentato come sia uno strumento essenzialmente deficitario, enormemente compromissorio. La questione non è tanto e non solo che la dematerializzazione non è in grado di sostenere in nessuna forma la presenza, ma che le idee di traduzione così sintetizzate sono in sé semplicistiche e completamente incapaci di alimentare questo desiderio. Ora, non è che il teatro non regge alla prova dello streaming, perché in qualche modo è una forma arcaica, ma piuttosto che la sperimentazione e il dialogo tra presenza dal vivo in presenza di prodotta, noi la conosciamo e conosciamo tutti i suoi limiti, le sue possibilità anche, a partire almeno dagli anni Sessanta. In particolare, il dialogo tra presenza e virtualità a noi, all'interno delle arti performative, non l'abbiamo mai articolato come una dialettica tra polarità monolitiche, ma conosciamo tutta la fenomenologia delle gradazioni di presenza. Un quarto di secolo fa Peggy Phelan, che è una teorica della performance femminista, ci ha detto una volta per tutte, abbiamo provato nel tempo a immaginarci delle articolazioni alternative che smussassero la radicalità di questo suo dire che adesso citerò, ma non ci siamo riusciti, perché lei ci ha detto «L'unica vita della performance è il presente». La performance non può essere salvata, registrata, documentata o partecipare in alcun modo alla circolazione delle rappresentazioni di rappresentazioni. Una volta che lo fa, essa diviene altro dalla performance. Nella misura in cui la performance tenta di introdursi nell'economia della riproduzione, essa tradisce e mortifica la promessa della sua stessa ontologia. e termina, la performance diventa se stessa attraverso la scomparsa. Dunque oggi questa insistenza, questa bulimia di eventi tradotti in video rischia, come dicevo prima, secondo me di essiccare il desiderio presentando qualcosa che è soltanto una traccia sbiadita dello spettacolo, non un'esperienza rimediata. Questo non vuol dire che sia preferibile, secondo me, ritrarsi dalla scena e attendere, ma che dovremmo chiedere finanziamenti, spazi, tempi per produrre pensieri e saperi di sperimentazione. Perché gli strumenti che abbiamo dimostrato di avere hanno un enorme potenziale, però allo stato attuale non sono sufficienti, ma c'è una compagine bassa di artisti, di ricercatrici, di tecniche che dovrebbero essere messi nelle condizioni e nell'agibilità di mettere in comune forme di sperimentazione su progetti innovativi. Parlo di progetti innovativi finanziati. E qui vengo a quello che secondo me deve essere il ruolo che è in rappresentanza di istituzioni, quindi quando parlo di finanziamenti parlo di investimenti nella ricerca dai finanziatori pubblici. In rappresentanza di istituzioni come università e teatri dovremmo avere. È molto circolata una proposta di Gabriele Vaces, un rappresentante delle istituzioni teatrali importante. Ora, in questa lettera ci sono degli argomenti interessanti, l'apertura dei teatri, la socializzazione di saperi e mestieri della scena, la pletora di attività e comunità che potrebbero essere convocate in un tempo espanso delle aperture. Però non può sfuggire che questi argomenti non sono una novità e quando sono stati sperimentati non erano immaginati come la risposta a un'emergenza conclamata, ma come un'articolazione alter istituzionale, e collettiva, è una forma di prefigurazione di chi non aveva evidentemente bisogno della pandemia per accorgersi che c'era bisogno di una sperimentazione di questo tipo. Parlo della sperimentazione del teatro valle occupato e quindi del fatto che esiste già un archivio incarnato dei saperi che Vaces auspica, vengano prodotti in queste scene che reagiscono alla pandemia. Esiste già un archivio incarnato, esistono dei saperi che sono stati sperimentati da chi quell'esperienza l'ha animato. E qui entra in gioco il ruolo che secondo me dobbiamo avere in questo momento come istituzioni, cioè il nostro farci cerniera tra esperienze che sono, state istituenti e che in questo momento aiuterebbero a dotarci degli strumenti per alimentare un'immaginazione capace di orientare le nostre richieste rispetto al piano delle decisioni governative. Io spero, anzi desidero, che la performance con tutti i limiti che patisce in questo momento rappresenti, se saremmo capaci di traghettarle in questa fase, proprio una rieducazione alla prossimità che misurerà le temperature di quello che collettivamente siamo disposti a investire e rinegoziare dopo aver completamente vissuto uno stato di generale infantilizzazione decisionale. E quindi che nel momento in cui avremo le condizioni per non mettere a rischio gli altri, le altre, noi stesse, dovremo riprenderci lo spazio delle nostre relazioni e dobbiamo esigere la copertura culturale, economica e politica per rieducarci collettivamente, anche e soprattutto dentro le scuole, le università, i teatri, alla convivenza, alle forme di vita in comune, a una modalità che sia capace di sostenere il peso e di abitare consapevolmente, coscientemente questo pianeta infetto.